C'è disgregazione all'interno delle forze di centro-sinistra ad Agropoli per l'individuazione del candidato a sindaco per le prossime elezioni amministrative. Infatti si è tenuto ieri pomeriggio un nuovo tavolo politico tra i rappresentanti locali del centro-sinistra per definire l'organizzazione delle elezioni primarie. Nonostante la grande apertura e la disponibilità mostrata dal sindaco uscente Adamo Coppola e dalla dottoressa Elvira Serra a favorire la più ampia partecipazione democratica possibile per l'individuazione del candidato a sindaco, il dottore Emidio Cianciola ha ritenuto opportuno escludere tale opportunità. Pertanto i partiti di centro-sinistra insieme alle liste civiche proseguiranno gli incontri per garantire la più ampia coalizione possibile per affrontare con un gruppo forte e coeso le prossime sfide amministrative. Intanto arrivano le dichiarazioni di Elvira Serra che ha annunciato di correre da sola con il partito di Italia Viva Agropoli e altre liste civiche e Nino Cianciola che a nome dei tanti amici con cui da tempo sta condividendo un percorso politico comune e che hanno individuato in lui il candidato alla carica di sindaco. Verificate le difficoltà all'interno del centro-sinistra, allargato e soprattutto all'interno del partito democratico come recentemente dichiarato con nota della segreteria provinciale, nell'immaginare un nuovo percorso che possa rappresentare una discontinuità rispetto all'ultima gestione amministrativa del comune di Agropoli, ritiene di non dover partecipare a qualsiasi ipotesi di elezioni primarie e ufficializza la propria candidatura con il gruppo civico che lo sostiene. In settimana infatti sarà indetta una conferenza stampa di presentazione.